Viaggio a gonfie vele il turismo nel Cilento in questo primo banco di prova nella parte alta del territorio fino al primo maggio è previsto un certo movimento con le strutture aperte al completo e con i turisti pronti a non fermarsi neppure dinanzi alle non belle previsioni di Pasco e Pasquetta. Tutte le strutture hanno lavorato e anche bene ha detto Angelo Coda, presidente dell'associazione Cilento Turismo. Anche le zone interne in questo ponte di Pasco hanno avuto i loro risultati grazie agli agriturismi. Si è lavorato molto sui gruppi con un ricambio continuo visto che le medie delle prenotazioni sono state sui due e tre giorni con pochi picchi di quattro attorno al 25 aprile. Si tratta comunque di una buona media per il periodo a concluso Coda soddisfatto. Che le aree interne non siano state dimenticate in questo periodo lo dimostrano i numeri fatti registrare da un monumento molto amato per le gite fuori porta come la Certosa di Padula. Dal 20 al 22 aprile ha fatto registrare 2380 visitatori. In questo numero sono compresi anche i biglietti unici che consentono la visita anche al centro storico di Padula, al museo multimediale, alla casa di Gioe Petrosino e al battistero, segno che il sistema integrato piace. La navetta che connette i vari luoghi attrattivi di Padula in partenza alle 11.30 dalla Certosa continuerà per tutti i giorni festivi quindi sarà possibile usufruirne anche il 25 e il 28 aprile, il primo e il 5 maggio. Anche nel golfo di Policastro confermate le prenotazioni nonostante il cattivo tempo, coppie singole nord europee e turisti campani per lo più famiglie si sono fatti vedere tra Sapri e Scario. È un turismo spontaneo che arriva seguendo le bellezze naturalistiche il sole, ha detto Nicodemo Giudice, titolare dell'hotel Il Tirreno a Sapri. Purtroppo la programmazione sul territorio resta ancora molto deludente e non fa nulla per incentivare questi arrivi. Stabile rimane il turismo delle seconde case mentre ancora pochi sono risultati gli arrivi con il frecciarossa nel Cilento. Il vero banco di prova per questo servizio si avrà con il ponte del 25 aprile perché ci saranno più tempo e posti per prenotare.